Scorpacciata di gol oggi per il Red Devil, 12 a 0 credo Sì, avevo fame Avete fame, sì, lo so Io avevo fame, era deperito Comunque, gran partita, gli avversari poco si sono resi pericolosi Tra l'altro Frittitta oggi si è annoiato Sì, cosa è dovuto, cercavo una PSP Invece Corrao, Denaro, Guarino, anche Mineo si sono divertiti sottoponta Quindi, scorpacciata di gol, questi Red Devil si volono in classifica, no? Speriamo che le tue parole vanno in cielo Come, scusi? Mineo oggi vedete una grossa mano, con l'articolo 11, ringraziate anche gli avversari per il gesto di fair play Anche loro è nell'emergenza Dopo tanto provarci Quindi non solo bel gioco, ma anche fair play in campo Sì, come ho detto, siamo fair play oggi Fair play, giusto, giusto E, che dire, partita diciamo, occhio perché avete una mosca dietro di voi La schiacciamo Per la classifica adesso com'è la vostra situazione? Saremo terzi Forse quarti Non è sempre più Dipende che fanno altre squadre Migliore in campo? Frittitta Frittitta Beh, non è facile tenere la porta regolata Questo 0 gol subito è importantissimo anche per fatti Molto, molto importante, certo Tra l'altro mancava Mannino Purtroppo non giocherà più perché il ginocchio ha ceduto Ah Con rimpiazioni di fece Ma quindi ce la farete in questi cinque, diciamo, fino alla fine del campionato? Mancava sempre Mancava Sposito e Russo Che alla fine Hanno l'influenza A1 e HN1 Non è vero Non è vero Hanno l'influenza su Inefano tutto il tempo Il prossimo turno è Teddi Coraffo che sono ultimi in classifica Si prevede un'altra passeggiata Speriamo che Ovviamente scherziamo Ma è andata male ovviamente Vabbè Chissà, cioè Magari giocherà di nuovo Mineo Si No, non si chiama Mineo Basta che non si stanca per la sua squadra R. 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 O sennò R. Mineo Vabbè, ok ragazzi Complimenti Godetevi la vittoria Ci vediamo nel prossimo Mancava Sconfitta